Ciao a tutti sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi Non è riuscita a restare in silenzio di fronte all'orrore di quanto accaduto, Alba si esprime su una tragedia che la tocca da vicino Alba Parietti, icona della televisione italiana, si trova al centro di un dramma inaspettato e sconvolgente La notizia ha colpito come un fulmine a ciel sereno, lasciando la celebre conduttrice senza parole La sciagura in questione è stata da lei definita come un delitto non premeditato, un evento tragico che ha scosso profondamente la sua vita La notizia ha destato l'interesse e la preoccupazione del pubblico, che su Instagram ha avuto modo di leggere il suo commento e dare spazio ad una discussione sugli avvenimenti recenti Ciò che è certo è che la vita di Alba Parietti è stata scossa da questo evento improvviso, portando la conduttrice a confrontarsi con sentimenti di rabbia e dolore Prende le sue parti su Instagram, un atto di difesa.La recente dichiarazione di Alba Parietti su Instagram ha portato l'attenzione su un caso delicato che coinvolge Alex Cottoia, accusato di aver ucciso il padre per difendere la madre da un'ennesima aggressione La figura di Alba Parietti si schiera contro il giustizialismo fai date, ma pone l'accento sulle circostanze particolari che potrebbero giustificare un gesto estremo come quello compiuto da Alex La storia, come descritta da Alba Parietti, suggerisce un delitto d'impeto non premeditato, dettato dalle circostanze, dall'istinto di protezione nei confronti della donna e dalla paura Da pregressi, da una vita vissuta nel terrore che ciò potesse avvenire La dichiarazione sottolinea che, sebbene non si possa giustificare il giustizialismo come risposta a situazioni di pericolo, ci sono circostanze in cui la legittima difesa di un genitore in pericolo potrebbe scatenare reazioni estreme, come nel caso di Alex Cottoia Il messaggio di Alba Parietti riflette su come i figli spesso si trovino in situazioni difficili, costretti a assistere impotenti a tragedie familiari La dichiarazione è un richiamo al dramma vissuto da Alex, evidenziando che, in alcuni casi, la legittima difesa può scatenare istinti di protezione che portano a gesti estremi L'attrice a conduttrice si dice vicino ad Alex Cottoia, riconoscendo la complessità della situazione e suggerendo che, anche se non si può giustificare completamente l'atto, si potrebbe comprendere il contesto in cui è avvenuto La dichiarazione di Parietti pone l'accento sulla necessità di affrontare tali situazioni con sensibilità e considerazione delle complesse dinamiche familiari che possono portare a episodi tragici Il caso di Alex Cottoia mette in discussione il delicato equilibrio tra giustizia, legittima difesa e dramma familiare, sollevando interrogativi sulla comprensione e sulla gestione di situazioni estreme all'interno delle dinamiche domestiche Forse la dichiarazione di Alba potrà sembrare controversa, ma quel che è certo è che induce alla riflessione Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie.